Musica Insomma adesso vado a scoprirle, sono loro le vere protagoniste una la storica legata agli autografi che raccogliamo da tanti anni e che al raggiungimento dei mille sarà messa all'asta, questa invece è quella che ha. Dove sono i due bambini in Espol? Ci sono Camillo e Violetta in rappresentanza e il papà ha fatto secondo me un'opera d'arte. E allora prego! Grazie! Se il 30% della nostra vita non si può cambiare perché è genetica e ce la danno alla nascita ai nostri genitori, il 70% della nostra vita è nelle nostre mani. La cosa dipende per poter migliorare le nostre condizioni, un'alimentazione sana, sport e movimento e io ci sono qui proprio oggi con questo bel gioiello super fotografato e ricamato e soprattutto buoni rapporti. Farite con me in moto, un bel giro facciamo insieme! Grazie! Grazie!